Gli operatori sociosanitari interinali che hanno lavorato per due anni nel corso della pandemia per la ASL 2 di Lanciano Vasto Chieti, al 30 aprile scorso si sono visti non prorogare i contratti. Questa mattina a Pescara si è svolto un sit-in di una rappresentanza degli operatori sociosanitari che hanno chiesto invece la proroga dei contratti stessi. Siamo quegli operatori sociosanitari mandati a casa senza un avviso, un avviso, un preavviso senza nulla. Noi stavamo svolgendo il nostro regolare turno di lavoro quando il 30 mattina alle 11.10 ci è arrivata una mail dove comunicava che quello era il nostro ultimo giorno di lavoro, senza una spiegazione, senza un motivo e senza niente. Eroi fino a quando gli siamo serviti, ad oggi siamo stati usa e getta, buttati via fuori senza nessuna giustificazione, nessuna. Cosa chiedete a questo punto? Rivolgiamo il nostro lavoro, il nostro umile lavoro perché noi abbiamo tutti lavorato umilmente e abbiamo portato i nostri pazienti, qualcuno purtroppo è morto ma noi li abbiamo portati su dignitosamente. C'è gente che qua dentro ha lavorato per tre anni sempre con l'agenzia interinale e oggi è fuori, gente che sta qui da un anno e oggi è fuori, gente che lavora da sei mesi e oggi è fuori. Il vicepresidente della commissione sanità della regione Abruzzo, Francesco Taglieri, al termine dell'incontro avuto con l'assessore alla sanità Veri, ha lasciato poche speranze agli OSS parlando di possibili perdite di ulteriori posti di lavoro nei prossimi mesi. L'incontro con la Veri è andato nella direzione che tutti quanti si aspettavano, naturalmente ha preso un impegno che porterà al tavolo la prossima settimana ma un impegno che non potrà essere rispettato. Purtroppo la morsa di quelli che sono i tetti di spese, i 107 milioni di euro di disavanzo iniziano ad avere il loro peso alla fine della pandemia. Ci troviamo in una situazione che non saranno gli unici loro lavoratori che non avranno il rinnovo del contratto ma ce ne saranno tanti altri. Questo è il vero problema, purtroppo il periodo della propaganda non ha più spazi per poter essere condiviso, tutte le chiacchiere che sono state fatte in passato oggi si scontrano contro una dura realtà. Saranno diversi gli eroi che da qui a breve torneranno a casa e resteranno senza lavoro. Sicuramente non ci sono rassicurazioni anti la situazione, da qui ai prossimi mesi vedrà tante altre persone a cui non verrà rinnovato assolutamente il contratto.